La recrudescenza di aggressioni violente nelle strutture sanitarie siciliane ci impone una seria riflessione su un fenomeno che ha assunto livelli allarmanti. È intollerabile che professionisti debbano nel proprio posto di lavoro essere esposti a tali rischi ed è altrettanto inqualificabile il metodo di chi intende farsi ragione con la violenza. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci dopo l'ennesima aggressione a personale medico negli ospedali siciliani. Il governatore ha scritto ai nove prefetti della Sicilia chiedendo loro di convocare al più presto possibile i rispettivi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere in quelle sedi le opportune soluzioni per fronteggiare una vera e propria emergenza. A nome mio e di tutto il governo regionale desidero esprimere solidarietà a quei lavoratori offesi dalla violenza, un atteggiamento sempre e comunque ingiustificabile. Ma per il presidente dell'ordine dei medici di Palermo, Totti Amato, il personale sanitario aspetta ancora risposte concrete. In un contesto in cui è avvenuto meno il riconoscimento del ruolo sociale del medico e dei valori basilari del vivere civile, ha detto Amato, assistiamo all'ennesimo episodio di violenza senza che nulla sia stato ancora fatto dalle istituzioni preposte per isolare le continue aggressioni ai danni dei medici e di tutti i professionisti della sanità. Una tragica notizia, ha sottolineato, non giustifica la violenza e tantomeno l'impunità. L'ordine farà la sua parte. Oltre a costituirsi parte civile, metterà a disposizione il supporto legale e tutti gli strumenti necessari per vedere riconosciuta giudizialmente la violenza subita, ma anche una condizione generale di disagio e di insicurezza che peggiora di giorno in giorno e non consente più il sereno svolgimento dell'attività sanitaria, soprattutto nelle aree di emergenza.